siamo di salmone alla griglia praticamente stasera Andrea sta qua a mangiare a tirare su una griglia, a tirare su un salvavite io sono un lavoro comunque la nostra postazione non male eccolo vai Andre vai tra le altre due, un minuto siamo a posto com'è qua la situazione salmone Davide? super comunque quanto si sta bene in campeggio piace il campeggio Zuccio? pronto per domani? per il trekking domani? sì, no spoiler perché dobbiamo ancora dire dove andiamo è più fattibile del lago di Seo noi vediamo la buonanotte con del bonte a Giordano come da tradizione in campeggio e ci vediamo domani mattina ciao Jasper ci siamo lasciati riva alle spalle abbiamo appena imboccato il sentiero del Ponale che è un sentiero scavato nella roccia che risale a metà dell'Ottocento poi è rimasto inagibile e dal 2004 è percorribile sia a piedi che con la bicicletta e pensate che è considerato uno dei sentieri più belli d'Europa parte direttamente dal centro di riva del Garda e la collega con la val di Ledro oddio una mini pausa dal sole che picchia in una maniera esagerata è questo sentiero che è tutto a strapiombo scavato nella roccia sarà praticamente tutto al sole il tè è unico sia per i ciclisti che per i pedoni a sinistra devono stare i pedoni a destra devono stare i ciclisti guardate che meraviglia noi decidiamo di lasciare il sentiero per prendere questo e arrivare al lago di Ledro è tanto andarci ma mi sa che è un po' impossibile arrivare lì guardate che qua sotto c'è un canyon pazzesco c'è un ruscello che lo attraversa veramente veramente bella la val di Ledro guarda il mio capogruppo qua ho una fame orrenda è bello che essendo che eravamo in campeggio due giorni nella mia bellissima borsa frigo avevo datteri, banane, di tutto e guardate che cosa ha dietro che bello questo sentierino ride subito lago di Iseo Dario Dario ti stiamo pensando in questo brevissimo tratto di strada sarebbe bello averti qui con noi ok altri 4 chilometri, 270 metri di dislivello ci siamo ecco noi praticamente siamo partiti più o meno da qui abbiamo fatto il sentiero del Ponale siamo da qui da qualche parte e dobbiamo arrivare fino qua al lago di Ledro che siamo praticamente da Riva a qui e fino a Ledro è una salita costante lieve ma costante eccoci arrivati al lago di Ledro mi sa che ci sono anche le palafitte lì? sì ma scusate ma il colore dell'acqua del lago di Ledro che roba è? la scusate ma si riparte ritorniamo verso Riva del Gard ovviamente ripercorrendo lo stesso sentiero dell'andata e quindi ci si vede dopo eccoci tornati al punto di partenza il nostro giro si chiude con 28 chilometri e 600 metri di dislivello una bellissima giornata adesso sembra che sia per venire giù l'inferno quindi ci affrettiamo ad andare alla macchina e a tornare a casa se vi è piaciuto questo video fatemelo sapere se vi piace l'idea di questi trekking lacustri vi metto qualche altro link di altre esperienze che abbiamo fatto sul lago qui in descrizione ciao ragazzi alla prossima